Ha solo 17 anni ma è già avvezzo al crimine. Il ragazzo arrestato dai carabinieri della stazione Sant'Eustacchio con l'accusa di furto e tentata istorsione infatti era già noto alle forze dell'ordine per una serie di reati contro il patrimonio. Nei giorni scorsi aveva messo nel mirino due quindicenni incrociati mentre passeggiavano nelle vie di Borgo Trento in pieno giorno. Un ragazzo di 17enne già con qualche precedente che ha sottratto un portafogli e un ipod a due suoi coetanei richiedendo poi la somma di 80 euro per la restituzione di quanto ha sportato. All'appuntamento per la consegna dei soldi si sono presentati anche i carabinieri ma il ragazzo ha fiutato la trappola. Già avvezzo si accorge della presenza dei militari che avevano fatto assecondare le sue richieste estorsive per procedere all'arresto e si dà alla fuga. Grazie alle testimonianze delle due vittime i militari sono comunque riusciti a identificare il presunto colpevole e ad arrestarlo. Ora si trova all'istituto Beccaria di Milano.